Ciao ragazzi, è terminata la partita 2 a 1, partita che la Juve vince e ipoteca, possiamo dirlo veramente a questo punto il campionato perché la Juve servono 4 punti in 4 partite, cosa che francamente l'ha portata, così come sono l'ha portata 4 gol da fare a Ronaldo per provare a vincere la Scarpadori, in realtà sono 4 gol più 1 rispetto a Immobile, perché se Immobile fa 6 gol, Ronaldo deve far 7 al di là di questo, parliamo di campionato, oggi la Juve secondo me ha giocato veramente bene, veramente bene fino al rigore, fino al rigore per la Lazio, perché poi la Lazio ci ha creduto, la Juve ha avuto anche paura di essere recuperata stavolta a differenza delle altre partite la Juve ha ragionato molto ed è riuscita a portare a casa la vittoria anche grazie a Scesni che ha fatto un paratone su Milinkovic-Savic la Juve è a primo tempo soporifero, una delle partite più noiose che io mi ricordo di quest'anno non solo della Juve, proprio in generale, però mi dava la sensazione che la Juve rispetto alle altre partite fosse molto più equilibrata, cioè fosse più compatta è incredibile come la partita sia cambiata per un errore madornale tra Bonucci e Scesni perché alla fine l'errore è quello, Immobile ci ha creduto e Bonucci l'ha steso che è il rigore che poi Immobile tira anche bene diciamo che i due rigori hanno equiparato, no? il rigore è per parte, però poi alla fine ha fatto la differenza il gol in contropia di Ronaldo peccato perché questo gol qua non cambia niente a livello di classifica ma cambia molto a livello di classifica a Cannonieri perché in questo momento Immobile e Ronaldo sono a pari merito però a me cos'è che dispiace? che Ronaldo ha avuto la palla per il terzo gol e ha preso la traversa e poteva essere 3-0 e probabilmente la fine anche della classifica a marcatori per quanto mi riguarda invece così siamo ancora lì, va bene però adesso la Juve deve fare 4 punti in 3 partite la partita non ha visto una Juve brillare fa caldo e bisogna dare anche gli attenuanti del caso però ho visto una Juve migliore rispetto a quella con Sassuolo e con l'Atalanta soprattutto a livello di equilibrio come ho detto prima però perdiamo sempre un po' la testa oggi veramente la cavolata è enorme abbiamo fatto una leggerezza impressionante però siamo riusciti a portarla a casa e come ho detto con questa vittoria probabilmente il discorso campionato non dico che sia chiuso ma sia veramente molto molto vicino cambia il miglior in campo io ne do 3 di migliori poi domani farò comunque i top e flop ma Di Bala, Rabiot e Ronaldo sono stati migliori Ronaldo per i due gol principalmente mentre invece Di Bala e Rabiot per come ha giocato tutta la partita peggiori in campo boh lascietelo voi perché a me sinceramente la Juve è piaciuta cioè sinceramente non mi sento di dare un giocatore sotto la sufficienza quindi boh ragazzi io vi saluto vi do appuntamento per domani con ovviamente i top e flop di questa bellissima partita si fa per dire che ci ha visto trionfare sulla Lazio allungare in classifica e probabilmente staccare il biglietto verso il 38esimo tricolore il nono consecutivo ciao a tutti ragazzi al prossimo video ciao a tutti